Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Oggi voglio farvi una sorpresa raccontandovi ancora una volta delle infinite potenzialità di Minecraft. A voler essere precisi, mi sono un po' divertito a mettere insieme dei singoli componenti che mesi fa vedevo già sulla stessa strada, ma siccome ancora non si vedeva la luce, ho provveduto a trovarmi una soluzione, chiamiamola per così dire fatta in casa. Quella che vi farò vedere è sicuramente molto importante e mi aspetto veramente che i protagonisti, che poi andremo a vedere insieme, un protagonista è ovviamente Minecraft Education Edition, provvedano a mettere a disposizione qualcosa più appurtata dell'utente comune che non l'accrocco tecnologico da me sviluppato. Come vi dicevo la destinazione a cui sono giunto è a mio avviso fantastica ed apre ad infiniti scenari interessantissimi. Il viaggio, come al solito, è la parte che preferisco perché conosci l'obiettivo che devi raggiungere, ma nessuno ti assicura se lo raggiungi, quale difficoltà incontrerai, quanto dovrai studiare ed imparare per poterle eventualmente risolvere queste difficoltà, potresti dover tornare indietro sui tuoi passi ed intraprendere strategie risolutive differenti e così via. Ecco, tutto questo è quello che auguro ad ogni ragazzo e ragazza quando si trovano davanti ad un ostacolo. Provate ad andare dritti verso l'ostacolo oppure ovviamente a girarli intorno. Provando e riprovando, fallendo e fallendo di nuovo, perseverate e siate creativi, divergenti, sempre desiderosi di imparare qualcosa di nuovo o di fare cose già viste, ma in un modo differente. Fatta questa doverosa premessa, veniamo al dunque. Uno dei protagonisti è ovviamente Minecraft Education Edition. Avviamo lo strumento, poi, tanto voi guardate le mie, sto registrando anche le mie mani, t slash code, invio, e abbiamo avviato qua in basso, vedete, code connection. Ok? Come sapete, possiamo ora comandare il nostro personaggio con diversi servizi, che sono MakeCode, Scratch e Tinker. Allora, siamo tutti d'accordo che io sono l'unico connesso al mio mondo. Come si fa a vedere, premo il tasto ESC qua a sinistra, ci sono solo io. Premo F5, eccomi, vediamo se ci sono solo io. Siamo tutti d'accordo, quindi, che sono connesso come MarcoV, che il mio agent ha proprio il mio nome, di MarcoV Agent, e siamo anche tutti d'accordo che si sta muovendo, giusto? Vedete? Avanti e indietro. Destra, lo metto di qua così, destra, sinistra, sinistra, destra, indietro. Ok? Siamo tutti d'accordo che si sta muovendo, giusto? Perfetto. Guardate, allora, qui però, questa anomalia. Io non ho ancora avviato alcun servizio di coding che mi permette di interagire con il mio agent. Giusto? Strano? Forte, no? Cosa sta avvenendo dietro le quinte a vostra insaputa? A vostra insaputa sta avvenendo, io vi faccio vedere che i miei programmi sono soltanto questi, a vostra insaputa io sto giocando con questo strumento. Ok? Mettiamolo forse qua più in basso così lo vedete. Guardate, io vado avanti e lui non va avanti. Ah, ok, va avanti. Devo piegarlo un po' di più. Indietro, indietro, avanti, destra, sinistra, 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 vai, sinistra, indietro, avanti. Sto sfruttando l'accelerometro del dispositivo microbit, non so se lo conoscete. Ovviamente qui è tutto ancora non collegato, quindi la parte simpatica era anche questa. Avvio il browser dove dovrei aver preparato delle schede. La cosa sorprendente per me era che all'epoca microbit e minecraft utilizzassero la stessa piattaforma. Vi faccio vedere cliccando su questo pulsante mi si avvia questa scheda. Ok? Microbit. È possibile interagire con questo strumento che vedete qui, con questo strumento, e programmarlo tramite programmazione visuale e non. Questo qui, ok? JavaScript. Stessa cosa, e in particolar modo, ecco qua addirittura mi dice guarda che non sei ancora connesso con Minecraft Education Edition. Sì, lo so, ma non l'abbiamo connesso ugualmente. Stessa cosa con ovviamente una grafica differente può avvenire con Minecraft. La cosa simpatica è che questi strumenti, anche se visibilmente differenti, utilizzano lo stesso framework, ok? Per creare del codice JavaScript visuale è non. Lo strumento di sviluppo comune è chiamato Microsoft Programming Experience Toolkit PXT, che è questo. È un dispositivo, è uno strumento, un framework open source. La cosa che mi aspetto nel brevissimo periodo, e da cui insomma sto vedendo delle potenzialità infinite da parte di Minecraft come intercettore di soluzioni eterogenee, mi aspetto questa interazione dell'Internet of Things con Minecraft. Siccome io fremevo per trovare questa soluzione alternativa, io per adesso l'ho trovata e spero di condividere il tutto con tutti voi, sperando che però venga trovata una soluzione alla portata di tutti. Spero di creare un post dove spiegherò i dettagli di questa mia soluzione. Detto questo, vi saluto e buon coding e buon Minecraft a tutti.